Un tre Un c si è condannato mi fai eh, stai giù tra i due stai giù cammette sicuro? stai via lì a cercare spazio si un giù di amica un giù di amica si un giù di amica ah, figlia il piatto rumè o figlia il colo ah, stai giù qui a fuoco vedo il patello dai adanna il patello sai cosa? il patello la prima affamica del suo patello si serve? bene quanto buoni intanto oggi sarà finale mi scuserei ma mi faccio il 90 puoi prendere il tuo handicap se rientra rientra quattro abbele ehi ehi tutto buono scuseremo tutta quattro non mi ha detto agli ragazzi ehi ed è come qui dice no ma c'è dire attaccare ma c'è dire attaccare 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 a quattro abbele a quattro abbele e poi a quattro abbele mi sono a Nesbo non mi sono a Nesbo non mi bacio ma un Cristo che caldo che faccio non manco sta a parare oh merci tu sei un tupu ti raccomandi un tupu a Dio e a Isa oh a Gapri mette la camera qui a Nantes tu comprendi te ci ho fatto che la pellicula che ha spiegato e tu ti raccomandi eh ah ma che la peglia non c'è qui mi si salta c'è la peglietta qui ma è affrancata è disposto non dico no che c'è un tupu Oni? No, no! No, 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 no. Non, 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 non. No, no, non, non, e'loco a teatro. Nicola, non ti prendi parmiteriori. Non, non. Tu hai pesado? Non, non, non e'loco a teatro. Non, 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 non e loco a teatro. Non, non, non.. colpe di te te oh, si va sali sali te 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 e te te e te te e 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 te Guarda che c'è il dittaglio. Guarda che uno. 23, 26, 29, 31, 32. E si fa più? Qua, qua. 36, 36. Come ti vuoi giocare di giocare? 36, qualche altro. Ma che taglio raccocciato? Ma che taglio raccocciato? Hai visto uno va incatterato? Uno va in doppio. 16, 19, 26, 33. C'è sempre calcissi appassi al papiano. Due otta picche, due setta picche, due otta cure. Come lo tiene così? No fosse al mio Lei è al mio Si vabbè! ! Oxigeno! Alliamo, alliamo Miquel, guarda un minuto Nessun Right Sei guarda Guarda un minuto Guarda che sto parquettando e altrimenti è già il tabappera caldo ma lui la vera che trafalgarla porca marina ciò che vuole la piuma romana e che non puro Nicola Retti, non è che si te faccia come se ce la lei, ti chiede ma io non lo canto, non lo casserò, non lo canto, non lo canto, non lo canto. la 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 Non si può gioire, non te ne ho già mostro. E anche qui si è tutto il caso. Un po' grammiuto. Eh, l'ha pigliato per di tanto? eh. Siamo così, riusciremo. Non si può esница, perché io non sono i tuoi amici. Io volevo fare un certoômq è un po' di più. mi sono sbagliato non mi condivino qui dai e tu allora mi fai il telefono lì la giuntata te oh quanto è lo cuore oh oh non mi spammare la caccia oh 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 non mi spammare la caccia non mi spammare la caccia non mi spammare la caccia e la pacchera ma che stai caccia la caccia beh beh io non so come beh 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 16 19 19 10 qua qualche volta ah qualche volta ah 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 ma ma è ma è che la caccia la caccia eh ma quanto hai detto tutto e caccia è no 17 ma quanta caccia è ah è è ma non mi spammare la caccia ma ma se mi vuole mettere 63 mettimi 63 giustamente prima ce l'hai avuto un ponte però non è allora è 63 vuoi che l'unica è un ponte è 63 è 63 è 63 è 63 e fa chi? è la verità quando quando le contri a me ma ma sarei a tutto caccia ok regarde se tu trovi un gros cage a pari là-bas bene il n'a due un altro a due on l'accrochera la bontillenne jaccia on la mettra là-bas ok oh il cù ti ha ma memoria ok non ne passano non ne volano la patria che mi la comprara si non ne provano la patria ma ne p mistiamo NO NO io sieric loro segbesione